Musica Amiche e amici di Volonbrite, buonasera, siamo qui alla Scuola Holden in occasione del convegno annuale di Aria in cui si è parlato di autonomia, soprattutto per quanto riguarda i giovani, quindi quanto, quando si sviluppa l'autonomia appunto nei ragazzi. Siamo qui con Paola Isabello e Luca Nave, quindi parto da te Paola. Paola è una psicologa, psicoterapeuta e responsabile coordinatrice del progetto Aria, quindi del centro di ascolto. Quanto secondo te questo convegno, quindi tutto ciò di cui si è parlato, il tema che si è affrontato, può essere utile agli operatori che si relazionano appunto con i giovani appunto nel spingerli all'acquisire l'autonomia? Ok, allora, penso che possa essere utile per due motivi. Uno perché il tema che abbiamo affrontato oggi, che stiamo ancora affrontando, è un tema cruciale durante il periodo dell'adolescenza che coinvolge sia i ragazzi stessi ma sia anche tutti gli adulti che li circondano, perché è un po' un gioco a due, è un po' una danza in realtà la possibilità di diventare autonomi. Questo è un primo motivo. Il secondo motivo, secondo me, è perché questo convegno, per come è strutturato, ma così come in generale lavoriamo all'interno del progetto Aria, ha l'obiettivo di fare in modo che le persone, soprattutto gli adulti di riferimento, si pongano delle domande, quindi continuino a riflettere sul loro lavoro, sul loro stare in relazione con i ragazzi e questo porsi delle domande, riflettere, fa sì che in qualche modo possano un po' arricchire il proprio bagaglio di competenze all'interno anche di un dialogo con altri professionisti del territorio. Quindi forse questo, ancora di più, che è proprio il focus sul tema, è l'aspetto più importante per noi, il continuare a farci domande perché non smettiamo mai di imparare in realtà. Grazie Paola. Invece Luca, che è filosofo e bioticista e responsabile della Fondazione Malattie Infantili Rare, abbiamo parlato con te anche del tema dell'autonomia, in particolare riferimento alla consapevolezza dei ragazzi nel momento in cui vanno ad affrontare ad esempio un intervento con qualcosa che riguarda la propria fisicità e il proprio corpo. Su che versante è opportuno intervenire per sviluppare anche questa consapevolezza, questa autonomia da parte dei ragazzi e quindi se è più giusto farlo nei loro confronti oppure magari nei confronti di un adulto di riferimento che può essere un professionista, un medico o anche un genitore stesso. Ok, allora, da un punto di vista giuridico un adolescente non viene considerato come autonomo, nel senso che non è un soggetto decisore che può prendere decisioni autonomi in quanto dipende dall'adulto di riferimento, del genitore o dal tutore. Ciò che si sta cercando di fare in ambito ospedaliero è quello di accrescere l'autonomia decisionale dell'adolescente, ovvero considerarlo come un agente morale autonomo in grado di prendere delle decisioni importanti rispetto alle quali ne va della sua salute e della sua corporeità appunto. Il problema che bisognerebbe andare ad affrontare a questo punto è più culturale, bisogna chiedersi quanto gli adulti di riferimento siano in grado di rispettare questa autonomia. Innanzitutto, da un punto di vista dei medici, cioè chiedersi se i medici sono effettivamente preparati a rispettare l'autonomia degli adolescenti, che vuol dire questo superare un atteggiamento fondamentalmente paternalistico che caratterizza a livello storico la figura del medico. E il secondo aspetto da considerare è la figura dei genitori, nel senso che, come ho detto prima, è uscito un recente studio negli Stati Uniti eseguito ai genitori di questi ragazzi adolescenti tra i 15 e i 17 anni e circa il 60% dei genitori non considera i figli come autonomi, ovvero non li considerano all'altezza di poter eseguire una visita medica o comunque andare al pronto soccorso e prendere delle decisioni autonome. Quindi il processo che bisogna attivare per accrescere l'autonomia degli adolescenti, quello che si sta cercando di fare, è quello di andare a lavorare sì su di loro, ma anche e soprattutto sugli adulti di riferimento per creare una cultura che permetta agli adolescenti di essere realmente dei soggetti autonomi, ovvero in grado di autolegiferare su se stessi, sul proprio corpo e sulla propria malattia. Perfetto. Grazie, vi ringrazio per il vostro contributo e alla prossima. Grazie.